Allora, Adel, dove siamo qua? Siamo nel villaggio che si chiama Cinini, sopra la montagna che si chiama Luxar, le granai, 650 metri latitudini di qua. Le abitazioni scavate dalla roccia, ancora di famiglie che vivono ancora di qua, cento famiglie berbere di qua che vivono ancora scavate dalla roccia. Sopra queste sono le granai, le gorfa, mette le provisioni, le blè, l'orso, l'antica, l'olio, tutti. Erano magazzini? Magazzini, sì. Abbandonati tutti? Tutti abbandonati, sì. Sì, ma quando... Anche di qua, questa è la scuola, poi le bambini, le blanche, la scuola, un ospitali, un magazzino per prenderla. Quando tu eri piccolo, questo paese, quante persone? Sì. Questa è la data del villaggio, otto secoli. No, quando tu eri piccolo, giovane, molta gente qua abitava. Sì, 3.000, 4.000 persone, 40 anni fa. Perché oggi c'è questa polvere? Sono la... questa che si chiama la tampetta di sabbia, che viene da... perché questa Cinini, l'ultimo villaggio, avanti il deserto. L'ultimo villaggio. Dopo? Dopo solo il Sahara, il deserto. Solo il deserto, il deserto. E siamo qui perché c'è un albergo. Un albergo che si chiama Chienza, sopra la montagna di questa parte. E poi sono ristrati qui. Sì. Sì. Sì.